Ieri ulteriore tappa del processo per concorso esterno in associazione mafiosa all'ex sindaco di Siderno Pietro Fuda. Da quanto è emerso nel dibattimento c'erano due servizi di monitoraggio, ovvero due telecamere nel palazzo comunale dopo l'elezione di Fuda a primo cittadino avvenuta a maggio del 2015, una telecamera esterna ed una che puntava nella stanza del primo cittadino. Il dato è venuto fuori dalla deposizione dell'ispettore Francesco Di Bellonia al processo che ricordiamo si sta svolgendo davanti al Tribunale di Locri. Oltre all'ex sindaco con l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa altri imputati sono Giuseppe Figliomeni, Antonio Commisso classe 56, Aless Ubucato, Cosimo Commisso classe 69, la DDA Regina contesta il reato di concorso in corruzione elettorale aggravata con le finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata Cosca Commisso. Nello stesso processo indagato anche Domenico Cerisano che risponde all'irreato di minaccia pubblico ufficiale aggravata. Davanti al pubblico ministero della DDA Regina, il PM Domenico Cappelleri, l'ispettore di Polizia racconta come gli inquirenti avessero attivato il servizio di ripresa delle telecamere interna ed esterna al comune. La telecamera esterna ovviamente registrava tutti gli ingressi e l'uscita del comune, l'altra chi si recava dal primo cittadino.